Eccoci ancora qui in diretta con il nuovo DTG di Telebari, ci ha raggiunto nel frattempo il presidente del Lance Bari e Bat, Domenico De Bartolomeo, che saluto, che ha l'onore o l'onere di tenere a battesimo questa nuova edizione del telegiornale. Sono particolarmente felice di questa opportunità che mi date. Allora, sono tanti temi di cui parleremo, ma io mi collegherei subito con Serena Russo, che si trova all'interno della galleria Oshan Bariblu a Trigiano. Lo avete sentito già nella prima parte del nostro telegiornale, la Oshan SPA ha comunicato con una nota che non siederà al tavolo che si terrà domani in comune. Una doccia fredda l'abbiamo definita per i lavoratori che speravano nell'incontro di domani si potesse dare una soluzione a questa avvertenza. Nel frattempo che perfezioniamo il collegamento chiedo a Domenico De Bartolomeo quanto l'effetto crisi in realtà incide su situazioni del genere o quanto ci si marcia, perché si è parlato anche di questo. Beh, allora sicuramente diciamo noi abbiamo da tempo riferito che il problema è quello dell'occupazione, un'emergenza sociale. Se poi ovviamente in situazioni come queste troviamo anche aziende che non hanno un'affezione al territorio, perché sono ovviamente grossi gruppi che pensano esclusivamente probabilmente ai bilanci e ai numeri, questo binomio crea sicuramente una situazione molto complessa. Ecco perché noi dobbiamo lavorare tutti insieme per la soluzione di queste crisi, anche attraverso le riconversioni, anche attraverso proprio l'ascesa in campo in prima persona delle associazioni di categoria che rappresentiamo. L'emergenza sociale è il primo problema che abbiamo. Allora, vedo intanto pronta Selena Russo dal centro commerciale Bari e Blu in compagnia di altri ospiti. Le diamo subito la linea a te, Serena. Sì Alessandra, eccoci di nuovo qua. Come vedete alle mie spalle ci sono parte dei lavoratori che in queste ore stanno rischiando il posto di lavoro. Lo hai spiegato tu meglio poco fa, la brutta notizia di questa sera, una nota dello Shan SPA in cui comunica che domani non si presenteranno al tavolo di trattative, ma soprattutto neanche comunicato che stanno procedendo in queste ore alle verifiche per eventuali responsabilità civili e penali su eventuali danni causati durante l'occupazione. Allora, vi presento immediatamente alla mia destra, lo conoscete già Marco Dell'Anna, segretario Will Tux. E allora, la nota che è arrivata da Ushan, cosa cambia? Noi prendiamo atto con estremo rammarico di questo comunicato, anche perché è tendenzioso e difforme dai fatti nella ricostruzione. In realtà Ushan non ha posto nessun atteggiamento di apertura e la revoca della procedura dei licenziamenti è intervenuta solo dopo l'iniziativa di mobilitazione. Cambia poco ai fini della trattativa, noi domani ci presenteremo in comune con tutti gli altri soggetti interessati a questa trattativa, cercheremo di fare del nostro meglio per portare a casa un risultato positivo. Tra l'altro la posizione di Ushan mi sembra estremamente contraddittoria, visto che nel comunicato ribadisce questa presunta volontà, e speriamo credibile, di voler trovare una soluzione occupazionale, anche se ci risulta difficile riuscire a trovare una soluzione fuori dai tavoli di concertazione. Noi faremo il nostro lavoro domani, poi vedremo quali sono nei fatti le posizioni concrete di Ushan, che ad oggi rispetto agli impegni purtroppo non ha mai messo in atto un comportamento conseguenziale. Ovviamente qui l'aria è molto tesa, Barbara Neglia, quando tu sei arrivata però diciamo che hai portato una nota di ottimismo, hai detto che il fatto che Ushan domani non si presenti non è un grosso problema e potrebbero arrivare però novità positive dai persimpli. Io spero proprio di sì, perché è evidente che la partita giocata finora è una partita ancora tutta aperta, noi abbiamo espresso anche la nostra volontà e la nostra apertura alla nuova società che dovrebbe subentrare e quindi gli abbiamo dato la nostra disponibilità a ragionare su tutto, a ragionare anche su un inizio di start-up, quindi la possibilità di poter inglobare più lavoratori possibili. Noi abbiamo solo questo input adesso, riproteggere più persone possibili. Alessandra, io vi ricordo sono 119 i lavoratori che in quest'ora stanno rischiando il posto di lavoro, io ti restituisco la linea se non avete domande da studio, poi ovviamente torniamo insieme a voi e faremo parlare loro, le persone che sono alle mie spalle, che sono i diretti protagonisti di questa storia. Infatti ci sentiamo tra pochissimo, ringraziamo ancora Serena e i suoi ospiti, andiamo avanti per parlare con il presidente De Bartolomeo di quella che un po' ha caratterizzato la giornata di oggi, questa operazione anti-racket, 9 arresti tra cui un imprenditore. Lei è un po' il simbolo della battaglia nel nome della legalità contro le mani dei clan sulle imprese, quanto è difficile però denunciare? Beh, la difficoltà è dovuta al fatto che poi c'è sempre questa sensazione dell'imprenditore di adoperare delle scorciatoie, a parte che la paura purtroppo è uno di quei sentimenti difficili da contrastare, quindi spesso l'imprenditore pensa di poter imboccare scorciatoie. Però quello che è successo oggi è un altro elemento fondamentale della lotta, la lotta che secondo me a questo punto deve essere una lotta aspra, senza quartiere, una lotta proprio che si deve combattere, come si deve dire, corpo a corpo. Il fatto positivo è che da quello che risulta, le indagini sono partite ad ottobre, gli arresti sono avvenuti nel mese di gennaio, i primi di febbraio. Questo tempo così breve è un elemento fondamentale della lotta, perché spesso l'imprenditore lamenta questa discrasia tra la denuncia e l'attività, che ovviamente è un'attività complessa, investigativa e quindi richiede dei tempi. Il fatto che queste operazioni avvengano così fulmine, e su questo io devo dire tutte le forze di polizia, la magistratura sta dando un'attenzione, un segnale fortissimo su questa lotta, questo è un segnale per noi fondamentale, un elemento fondamentale, quindi le parole che ho sentito dove si dice si deve denunciare, mai come in questo momento sono attuali, anche situazioni che non rappresentano puramente un'estorsione, ma rappresentano un primo segnale di avvicinamento di un mondo criminale, devono essere segnalate per costruire il quadro chiaro, e quindi su questo bisogna essere netti. Il fatto positivo, dico ancora, è quello che i tempi sono stati così stretti, e questo è un elemento fondamentale. L'abbiamo visto anche nei nostri titoli, c'erano delle intimidazioni molto pesanti, addirittura vengo a tagliarti la testa, ecco, quanto passa rispetto, perché si possa parlare di vere e proprie intimidazioni, tra quell'approccio più gentile, definiamolo così, dei clan, fino al momento in cui non c'è più scampo per l'imprenditore? Beh, secondo me, ecco perché dicevo, tutti gli avvicinamenti riferiti a situazioni, anche se in maniera più, voglio dire, calme, devono essere attenzionate. Quindi noi dobbiamo fare in modo che l'imprenditore sia sempre tutelato, anche appunto dall'associazione di categorie, quindi abbia sempre la possibilità di riferire queste situazioni, di fare delle informative, e quindi mettere in atto tutte quelle attività che poi non sfociano in attività che determinano vessazioni. È chiaro che però queste minacce determinano nell'imprenditore un clima di paura e la fiducia nelle forze dell'ordine, la fiducia nella magistratura deve essere totale, perché poi i risultati sono quelli che abbiamo vissuto oggi e sono risultati importantissimi, perché quando poi l'imprenditore o comunque il vessato si rivolge allo Stato, lo Stato interviene. Questo è un segnale fondamentale per la lotta. Si può dire che è la crisi in questo momento o soprattutto la criminalità il nemico numero uno delle imprese? Beh, diciamo che la crisi sta svolgendo un ruolo fondamentale per la demolizione di quello che è proprio la struttura dell'impresa. La criminalità è un fenomeno che mai come in questo momento purtroppo è un fenomeno assolutamente intollerante e intollerabile. Le due cose insieme mettono l'imprenditore in una situazione psicologica veramente difficile, di grande soggezione, quindi queste due cose insieme lo mettono in una situazione di difficoltà e quindi noi abbiamo questo ruolo di dover affiancare l'imprenditore in queste battaglie. Secondo me sono battaglie che si possono vincere. Lo ha sottolineato lei l'invito a denunciare, un invito che è stato rivolto durante la conferenza stampa dal colonnello Rosario Castello, comandante provinciale dei Carabinieri. Andiamo a sentire uno stralcio del suo intervento in conferenza stampa, poi qui nuovamente in studio per commentarlo. Questa mattina abbiamo risultato di un importante operazione del nucleo investigativo di Bari su degli arresti nei confronti di pregiudicati autori di estorsioni. Nella fattispecie si tratta di due estorsioni ai danni di due imprenditori, uno di Bari e uno di Bitonto. Per la prima estorsione su Bari sono state arrestate tre persone, su quella di Bitonto ben sei persone. Gli aspetti tecnici ricureranno gli sviluppi delle attività, il comandante del reparto operativo, il colonnello Ottaviano e il comandante del reparto investigativo daranno i dettagli di questa operazione. Io voglio solo dire a premessa che è un'operazione importante perché segna il contrasto ai clan, perché parliamo di personaggi legati ai clan, attraverso l'intervento dell'arma, grazie e questo è il punto alle denunce pervenute dai cittadini. Allora il messaggio che io voglio dare è questo, i cittadini, gli operatori economici di ogni settore, siano essi commercianti, artigiani, imprenditori, edili, agricoli e quant'altro, si rivolgessero alle forze di polizia, carabinieri, polizia di Stato, guardia di finanza e c'è necessità di denunciare ogni forma di estorsione, di infiltrazione, di intimidazione. In una delle estorsioni, come vedremo, e parlo di quella di Bitonto, gli aggressori si prospettano per fornire una copertura assicurativa alle attività che questo imprenditore edile aveva nel territorio. e parliamo di imprese su Bari, Bitondo e Palo del Colle. Le somme non sono somme rilevanti, parliamo di 11 mila euro nell'arco di un paio di mesi, quindi comunque sono degli importi che per un imprenditore hanno una notevole, costano notevoli sacrifici. Allora l'invito è quello di denunciare. Abbiamo sentito, l'invito a denunciare e costituisce un po' lo scheletro dell'attività investigativa. Presidente, che rapporto c'è tra il lavoro sommerso, il lavoro nero e la mano della criminalità? Beh, è chiaro che il lavoro nero e il lavoro sommerso è una di quelle situazioni a limite che può spociare facilmente in criminalità. E quindi questa attività che bisogna svolgere è sia riferita appunto prettamente alla lotta alla criminalità, ma soprattutto anche al lavoro sommerso. Su questo noi stiamo facendo anche ormai sinergia tra tutti i nostri organi associativi, con la Cassedile, col Formedri, col CPT. Noi stiamo mettendo in atto tutta un'attività che debba servire a fare contrasto appunto sui cantieri al lavoro nero, perché poi il lavoro nero facilmente può essere fonte di criminalità. E quindi dobbiamo fare in modo noi i primi di mettere a disposizione i nostri cantieri per tutti i controlli, per fare in modo che non ci siano commistioni e poi questa attività insieme all'Inps, all'INAIL, a tutti gli organi preposti devono essere svolti in maniera diffusa sul territorio, perché il contrasto a questa attività determina un vantaggio per l'intero settore. Ancora qualche secondo, prima di lasciarci, oggi c'è stata una conferenza stampa dell'Ancebari e BAT, si è parlato di rilanciare il settore dell'edilizia, il mercato delle costruzioni, il settore delle costruzioni viene considerato il settore anticiclico per eccellenza. I fondi ci sono, sono quelli della programmazione 2014-2020, i progetti pure, ma bisogna scegliere progetti immediatamente canterabili con riferimento alla città metropolitana e bisogna anche snellire la famosa burocrazia elefantiaca. Si riuscirà? Beh, io penso che si possa riuscire. Oggi diciamo abbiamo avuto questo confronto molto leale, corretto, con tutti i comuni, abbiamo convocato i 40 comuni, c'è stata una grande affluenza, c'era il presidente dell'Anci regionale, c'era il sindaco De Caro, il sindaco della città metropolitana, c'era Francesco Spina, c'erano gli ordini degli ingegneri, degli architetti, dei geometri. Noi dobbiamo contrastare questo problema sociale della disoccupazione attraverso attività dirette per fare in modo che si ritorni al lavoro. Le imprese devono rinascere, devono riprendere a fare il loro lavoro correttamente. I fondi europei, per la quantità di fondi di cui parliamo, rappresentano un volamo imprescindibile per la ripresa e noi dobbiamo svolgere il ruolo di coordinamento e anche di affiancamento alle amministrazioni locali per fare in modo che questi fondi si spendano. Allora, se vi in chiusura ringrazio il presidente del Lance Baribat, Domenico De Bartolomeo. Grazie a voi. Adesso qualche istante di pubblicità e poi torniamo con la politica. Schittulli, orfano ancora di Forza Italia per la candidatura alla presidenza della Regione Puglia. Restate con noi.